Un tempo il vostro credo mi era necessario quanto l'aria e l'acqua, ma poi i turchi invasero la valacchia e voi assassini non muoveste un dito. Come potevo continuare a credere? Se la filosofia di un uomo non gli lascia difendere la sua gente, la sua casa e la sua famiglia, come può giovare al mondo? La pace sia con te. Grazie.